Buongiorno a tutti, prima di affrontare lo studio delle variazioni opera 9 di Fernando Sorra volevo fare questa prefazione e leggervi alcune cose. Allora, la prima cosa è che ho confrontato alcune versioni e diteggiature che avevo a disposizione e che sono riuscito a trovare anche sulla rete. Allora, qualcuno... beh, la revisione forse la più recente è questa del 2010 che è la revisione di Giovanni Podera e Giulio Tampalini. Poi la revisione di Ruggero Chiesa, che è per la Suini e Zerboni. Avevo a disposizione la versione sulla quale avevo studiato io, che era l'edizione della Scott, o Shot, che sia revisionata da Segovia. Poi ho trovato... queste versioni sono reperibili anche sulla Music Library Petrucci, che è una revisione del 2016 di Rafael Centeio. Centeio, non so come si pronunci. Poi ho trovato una versione di Stefan Apke, della revisione 24 dicembre 2020. Ok, questa è la più recente. Poi ho trovato una serie di versioni pseudo-originali, versioni pubblicate, insomma, presenti sempre nello stesso sito. e poi le due versioni a cui mi sono riferito della Tecla Edition, quindi revisionate da Brian Jeffery. La prima dove non riporta nessuna indicazione, cioè ci sono solo le note, quindi null'altro più. e nell'altra invece con alcune indicazioni, alcune diteggiature e revisioni. Allora, prima di affrontare questo brano, mi sono documentato anche con questo metodo di Fernando Sorra, che è la traduzione della Suimizzazione del Buon Milano, un metodo bellissimo, bellissimo, se non ce l'avete compratevelo, perché adesso l'ho pagato una trentina di euro, ma ben spesi, insomma. Dove ci sono indicate tutte le considerazioni, cioè tutte le cose che Sorra... è il metodo, è il metodo di Sorra. Quindi c'è le indicazioni per le dita, come tenere la mano, le indicazioni sullo strumento, insomma, bellissimo, ok? Un libro bellissimo. Allora, vorrei leggervi l'introduzione che è presente anche nelle edizioni della Tecla Edition. Sono in inglese, io ne ho fatte una traduzione, così, insomma, per capirla meglio. Allora, una delle opere più famose di Sorra, questa serie di variazioni sembra essere stata ispirata dalla prima edizione londinese del Flauto Magico di Mozart, nel maggio 1819. Il tema utilizzato è verso la fine del primo atto e il titolo originale tedesco in italiano è variamente tradotto come O dolce contento, O dolce armonia e O cara armonia. È quest'ultimo che compare nel frontespizio dell'edizione inglese dell'opera ed è anche quello utilizzato, ad esempio, nella partitura vocale Il Flauto Magico, pubblicata da Birkholl intorno al 1813. Nel 1821 esce la prima copia. L'editore era la Royal Harmonic Institution e non c'era il numero d'opera, che apparve solo nelle edizioni successive di Maisonnier. L'opera è poi apparsa a Parigi, edita da Maisonnier, ma con modifiche. La prima edizione, ovvero quella londinese del 1821, che costituisce la base dell'edizione della Tecla Edition, ha un'introduzione, un tema, cinque variazioni e una coda. E la quarta battuta del tema inizia con il caratteristico fa doppio diesis. Ma più o meno nello stesso periodo, non più tardi, nel 1822, quindi la prima edizione del 1821, questa qua nel 1822, l'editore francese Maisonnier ne fece uscire un'edizione abbreviata, semplificata e meno interessante. Si può intuire che si trattasse di un tentativo di ridurre questo bel lavoro a livello di dilettanti per vendere più copie. La prima e più difficile variazione è stata omessa. Quindi la prima variazione è quella che fa Le altre variazioni disposte in ordine diverso. La coda è stata omessa e il fa doppio diesis è stato cambiato in un la. Il finale è così brusco e poco musicale che non si può fare a meno di pensare che questa versione non possa aver avuto l'approvazione di Sor. Il finale non è cambiato, cioè oltre ad aver disposto in modo diverso le variazioni, è anche cambiato. Nello stesso periodo in cui Sor venne a Parigi nel 1826 apparve un'altra edizione messoniera, in francese nuova edizione ampliata dall'autore. Che si tratti di nuova edizione è vero solo nel senso che si tratta di una nuova edizione di messoniera. L'implicazione che si tratti di un'edizione completamente nuova di Sor è falsa poiché all'esame risulta identica nota per nota e nella stessa posizione sulla pagina, ossia in paginato uguale dell'edizione londinese originale. Sor, insoddisfatto dell'edizione troncata che mi soniera aveva precedentemente pubblicato, insistette con lui perché la versione completa e corretta fosse pubblicata quando tornò a Parigi dalla Russia. Lo stesso Sor ha eseguito l'opera in pubblico per l'edizione londinese dice come eseguita dall'autore ai concerti per i nobili e la seconda edizione è messoniera eseguita dall'autore al concerto della Royal School of Music. Tutte e tre le edizioni portano la stessa dedica a suo fratello Carlos Sor che viveva a Parigi ed era anche chitarrista e compositore. Allora bene, poi ci sono alcune indicazioni sulla prima variazione anzi sull'introduzione ma magari lo vediamo quando la guardiamo e dato che ci siamo facciamo invece anche nell'ultima variazione con quell'armonico sul re 12esimo tasto magari lo vediamo poi meglio nel dettaglio quando arriviamo a guardare quella variazione ok? Spero vi sia stata utile questa introduzione e iniziamo subito a lavorare sulle variazioni di Sor Opera 9 ciao grazie a tutti